Rosa Pulerà, siamo qua a Soveria Mannelli per l'importante convegno estetica oncologica organizzato dalla FIDAP di Soveria Mannelli. Buonasera a tutti, grazie mille anche per questa intervista, siamo qui oggi per festeggiare l'8 marzo con un particolare congresso di estetica oncologica, abbiamo notato con il nostro gruppo FIDAP che era un argomento di particolare attenzione per il nostro territorio, abbiamo deciso di regalare alla donna questo nostro pensiero. È una tematica molto molto delicata ma anche molto dolce aggiungerei, siamo un gruppo affiatato e abbiamo organizzato, abbiamo una bellissima platea di interventi tra cui anche l'onorevole De Francesco vi ringrazio ancora per essere qui con noi. Al prossimo episodio Grazie a tutti